Intervenire per prestare soccorso ad una persona in arresto cardiaco nella sua abitazione e venire aggrediti senza motivo è quanto accaduto domenica sera al personale di un'ambulanza a Pescara. Un atto vile e ingiustificabile che ha coinvolto l'equipaggio, un medico, un infermiere, un autista del mezzo medicalizzato giunto sul posto allertato da una telefonata. Al rifiuto del paziente di farsi prestare le cure il personale del 118 decide di andar via ma sulle scale si consuma l'aggressione di alcuni familiari dell'uomo con pugni e calci. Sulla triste vicenda abbiamo sentito il direttore generale dell'ASL di Pescara Vero Michitelli. Hanno una prognosi di sette giorni, hanno avuto delle contusioni a seguito dell'aggressione ricevuta ma il danno più che fisico è un danno di natura psicologica perché un evento del genere sicuramente scuote la sensibilità e la sicurezza nel luogo di lavoro di questi operatori. La violenza è sempre un atto riprovevole, va condannato contro chiunque si verifica indipendentemente insomma delle condizioni della persona. Però un atto di violenza nei confronti di chi si occupa della cura e della salute pubblica e va a soccorrere un paziente che chiede di essere soccorso assume connotazioni ancora più viasimevoli e riprovevoli. Un'amarezza che se vogliamo aumenta ancora di più visto che oggi è una giornata speciale. Oggi ricorre anche la giornata mondiale della prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari. Questo è un problema che riguarda non solo il personale del 118 che è esposto come si è visto, riguarda anche il personale del pronto soccorso che è stato in passato vittima di aggressioni e abbiamo avuto anche aggressioni nei confronti del personale che si occupa della salute mentale. Ora le leggi aiutano in questo senso, è intervenuta anche una riforma, è stata introdotta una norma che inasprisce le sanzioni nei confronti degli atti di violenza contro gli operatori sanitari, con sanzioni anche pecuniari che possono arrivare a 5 mila Euro, ma quello che va capito è che chi si occupa di salute pubblica va prima di tutto rispettato e considerato. La divisa in questo caso identifica una missione. Io vorrei che l'individuazione di questa divisa suscitasse nella popolazione un senso di rispetto e di solidarietà.